Eccoci, buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti a questo incontro sulla trappola dell'azzardo che ci mette ancora una volta di fronte alla necessità di riflettere su una patologia che è sempre più diffusa nel nostro Paese, ma ci dà l'opportunità di farlo attraverso la presentazione della seconda edizione di un progetto che mette insieme in modo importante un soggetto bancario di primo livello come la B per banca e una realtà ormai affermata della società civile come avviso pubblico. Do subito la parola alla vice sindaca Anna Scavuzzo per i saluti e la presentazione. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Intanto grazie. Grazie anche per dare l'occasione a Milano di poter ospitare questo momento che però ha una vocazione nazionale che richiama responsabilità ai tanti soggetti e ai tanti contesti nei quali il contrasto al gioco d'azzardo, al gioco d'azzardo patologico è così sentito. Credo che torniamo in grande spolvero anche rispetto a quelle che sono state esperienze che hanno caratterizzato il nostro impegno. Dico nostro perché con avviso pubblico, con le tante realtà degli enti locali impegnati sul territorio, c'è un impegno che ha un po' anche il compito di creare il contesto per cui ciascuno possa dare un contributo importante. Quindi evidentemente un grande plevio come Biperbanca, prima ci fermavamo a ricordare anche quanto abbiamo fatto anche in passato qui a Milano e ricordo proprio sul tema anche dell'azzardo una serie di innovazioni e di capacità di intercettare soprattutto i più giovani di grande impatto e di grande innovazione ecco torniamo a tenere insieme le diverse anime che io credo hanno bisogno di creare e di ricreare quelle alleanze virtuose che ci permettono davvero di arrivare laddove ciascuno singolarmente farebbe più fatica a farlo. Milano è una città che evidentemente ha un'attenzione importante rispetto a quelle che possono essere anche delle infiltrazioni che sappiamo albergare anche un po' in quelli che sono dei circuiti non sempre legali evidentemente però c'è un tema di consapevolezza da parte delle persone a partire dai più giovani e quindi tenere insieme quello che è il nostro ruolo di amministratori e quindi far sì che ci sia una cultura della legalità e una consapevolezza di quelli che sono i rischi connaturati invece a quelli che sono comportamenti un po' borderline come appunto quelli che verifichiamo tanto purtroppo in un momento di fatica e di fragilità nei luoghi dove si può avere accesso al gioco quanto tutto il mercato dell'online che sempre di più ha preso piede e che costituisce anche una frontiera di verifica e controllo sempre più complicata. Io vi lascerei la parola con l'impegno per parte nostra di proseguire per quella che è l'attività nella nostra amministrazione sia su questo progetto nello specifico e quindi nell'accompagnare delle scuole a partecipare alla trappola contro l'azzardo e ad aderire a questo progetto nello specifico ma a continuare quel lavoro che stiamo facendo anche sul tavolo della prefettura perché ci sia una collaborazione sempre più estesa su Milano, su Milano metropolitana e su tutti i soggetti che possono contribuire appunto a creare quell'ecosistema della legalità di cui abbiamo bisogno. Grazie e buon lavoro a noi. Grazie, grazie davvero al Vice Sindaco Anna Scavuzzo che ci permette di introdurre un'iniziativa che ha sullo sfondo uno scenario assolutamente nuovo rispetto a quello che è il dopopandemia. Noi su Avvenire l'abbiamo chiamata la pandemia sociale perché il mondo dell'azzardo, il mondo dell'usura anche in sé, ha avuto un'esplosione che i numeri ancora in parte nascondono e che comunque è stata un'esplosione molto grande. Il fenomeno dell'azzardo online è una trappola che davvero per i giovanissimi, gli adolescenti in particolare attraverso gli smartphone e altri mezzi di comunicazione si è diffusa tantissimo. E il fatto che ci si mette insieme realtà diverse per poter contrastare tutto questo attraverso un'opera di educazione, come è stato detto, è molto importante. Per questo chiedo alla Presidente di Biperbanca, Flavia Mazzarella, di illustrarci il progetto e le ragioni per cui un istituto bancario si impegna in una battaglia che è fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Prego. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio naturalmente in prima battuta il Comune di Milano e la dottoressa Scavuzzo in particolare per il patrocinio concesso rispetto a questo progetto. Ringrazio poi la società che ci ha voluto accompagnare in questo progetto che è avviso pubblico. Allora, noi abbiamo inserito questo progetto, questa è la seconda edizione, l'abbiamo inserito all'interno del nostro piano industriale. Da dove nasce? Nasce dall'osservazione dei numeri che hanno veramente impressionato un po' tutti. L'effetto pandemia che lei richiamava è stato un effetto devastante e acceleratore per molti versi di quello che era un fenomeno già latente. Momenti di solitudine, di fragilità, di tempo a disposizione, qual era il contesto pandemico, hanno naturalmente portato ad un'esplosione importante di questi numeri. Quindi ci siamo voluti avvicinare ad un progetto di questo genere che rientra, dal mio punto di vista, all'interno di un tema molto più ampio che quello dell'educazione finanziaria. Questo è un po' un aspetto quasi patologico. Il progetto è stato lanciato lo scorso anno e ha abbracciato cinque città italiane, riuscendo a coinvolgere non solo i giovani studenti di scuole, giovani e anche minorenni, ma anche la società civile. Dato il successo del progetto, quest'anno lo abbiamo ripetuto e lo ripeteremo, si parte tra qualche giorno con Bari per poi proseguire con Milano, Firenze e Verona. L'obiettivo è duplice, da un lato informare, perché l'informazione è il punto di partenza, dall'altro mettere, oltre ad informare, mettere i giovani nelle condizioni di conoscere quelli che sono i rischi legati all'attività di gambling, ossia di gioco patologico. Prima qualcuno mi chiedeva, ma qual è secondo lei la vera trappola? Secondo me la trappola è avvicinarsi a qualcosa senza essere informati, senza conoscerne i rischi e quindi mettersi veramente in trappola da soli. L'informazione credo che sia fondamentale per evitare questi tipi di rischi che sono veramente dietro l'angolo. Il progetto mira inoltre a svolgere un'attività formativa, questo si affianca al progetto, nei confronti di tutto il personale della nostra rete, questo per essere loro stessi ambasciatori nei confronti dei clienti, dei rischi legati al gambling. La banca è molto sensibile su queste tematiche e quindi ad un progetto che rendiconteremo quest'anno nel nostro bilancio di sostenibilità per capire qual è l'impatto che ha creato sui territori in cui siamo andati. Aggiungo alle cinque città, anche Modena, dove si è svolto l'evento conclusivo che ha visto una partecipazione eccezionale di giovani. Dicevo, Bipper si è inoltre impegnata con progetti concreti. Abbiamo da un lato inibito l'utilizzo di carte di credito ai giovani e alle persone che si avvicinano a slot machine piuttosto che a siti internet che vengono classificati a rischio sotto il profilo legati all'attività di gambling, così come ci impegniamo in azioni concrete a non finanziare progetti che siano destinati all'acquisto di hardware, parlo per esempio di slot machine, piuttosto a progetti che mirano a sviluppare questo tipo di attività sul territorio. Riteniamo che la sensibilizzazione, ci torno per la terza volta, sia un prerequisito per poter poi sviluppare una consapevolezza dei rischi e speriamo inibire i giovani soprattutto da questi comportamenti. Poi avviso pubblico ci potrà dare dei numeri per cui il fenomeno a un certo punto prenderà visibilità in tutta la sua gravità e importanza. Grazie. Grazie dottoressa Mazzarella. Appunto avviso pubblico è motore e promotore dell'iniziativa anche perché sul territorio ha un osservatorio che è quello dei sindaci e non solo e degli amministratori che davvero diventa il primo sismografo, verrebbe da dire, il primo soggetto in grado di intercettare quello che sta accadendo, la diffusione di tante sale slot, la diffusione dell'online. Ecco allora spieghiamo, Presidente Montà, qual è la prospettiva di avviso pubblico. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio Diego Motta di averci accompagnato questa mattina. Ringrazio innanzitutto la Vice Sindaca Scavuzzo e il Comune di Milano per l'ospitalità, per il patrocinio. Il ringraziamento ovviamente più sentito di cuore va a Biperbanca, la sua Presidente Mazzarella, ma credo a tutti i collaboratori. Un grazie anche da parte di avviso pubblico insieme al coordinatore regionale della Lombardia, a Fabio Bottero, al personale e a tutti i collaboratori, dal nostro coordinatore Pierpaolo Romani che hanno portato avanti questo progetto. Per noi è importante giungere a questa seconda edizione, giungere con i numeri che sono stati in qualche modo descritti. Insomma siamo oltre 15.000 persone, prevalentemente studenti, ma non solo, che come diceva la Presidente hanno avuto modo di entrare in relazione con questo progetto e fare in qualche modo una riflessione intorno a un fenomeno che molto spesso è un po' carsico. Ecco, non c'è una percezione reale di quelli che sono gli elementi di pericolosità. Dicevo prima a chi mi intervistava, diceva, ma come mai un'associazione di enti e una banca si occupano di questo tema? E la risposta è facilissima, perché sono quelli che si accorgono del disastro del gioco. Cioè nel senso che chi vede gli effetti patologici del gioco sono gli amministratori che hanno di fronte a sé famiglie, imprese, attività distrutte con gli effetti sociali e relazionali che tutti possiamo immaginare e la banca che le vede da un punto di vista finanziario. Quindi chi ha maggiormente il polso riesce a decodificare i numeri. Ma i numeri sono impressionanti. E il fatto che molto spesso poi veniamo invasi di tanti numeri, io ne dirò solo qualcuno per provare un po' a far riflettere, ma è evidente che se con gli ultimi dati disponibili siamo a 136 miliardi e il 2023 si chiuderà a 150 miliardi di euro di volume di denaro giocato, che vuol dire portarci a circa 3.000 euro pro capite. Quindi ogni anno c'è una somma importante del bilancio di una persona e di una famiglia che viene in qualche modo investito intorno al tema del gioco, con dei numeri di crescita che sono vorticosi. Abbiamo più 10% ma abbiamo un più 22% dal 22 al 21 e se ci confrontiamo col periodo del Covid i numeri sono ancora più impressionanti perché quella era una fase in cui le limitazioni non hanno consentito. Ma ci hanno in realtà aperto a un altro scenario che è un riequilibrio tra quelli che sono gli strumenti relativi alla possibilità di accedere al gioco a distanza, a quello che noi chiamiamo gioco online, con un meccanismo che ha visto progressivamente superare da un punto di vista dei volumi il gioco a distanza rispetto al gioco fisico. E questo io credo ci dia una dimensione molto preoccupante perché il gioco a distanza in qualche modo è uno strumento che intercetta in maniera più prossima ai giovani, che hanno la possibilità di utilizzare i device che sono parte della loro vita, i nativi digitali ce li hanno come propagine delle loro braccia, dei loro occhi e del loro cervello e quindi ci vivono immersi ma soprattutto che consentono in maniera più continuativa oltre che il ricorso alle strutture fisiche di poter considerare il gioco come uno strumento importante. Tenete conto che ci sono in Italia 17 milioni di conti online attivi, cioè vuol dire che ci sono 17 milioni di conti virtuali da cui parte l'attività di gioco che sviluppa questi 150 miliardi e che poi fanno il pari con le entrate dello Stato di meno del 10%, siamo a 11 miliardi, quindi danno una dimensione di come in realtà quello che si mette in gioco da un punto di vista della capacità di spendere denaro privato il ritorno alle casse dello Stato non è un ritorno così percentualmente significativo. Qual è il senso del progetto? Io credo che il senso del progetto sia quello di provare a tenere insieme la dimensione educativa e di conoscenza che la Presidente ha ben evidenziato ma anche con la capacità di aiutare il territorio e avviso pubblico che insomma da 28 anni è attiva a livello nazionale sui temi del contrasto a mafia e corruzione che ha individuato però nel tema del gioco un elemento centrale anche rispetto al fenomeno criminale, al fenomeno mafioso. Per fare cosa? Noi dobbiamo fare sia advocacy sia lobby, cioè dobbiamo cercare di far capire alle persone quelli che sono i cambiamenti necessari per gestire uno strumento qual è quello del gioco ma dall'altro anche provare a far riflettere nel nostro Paese l'opinione pubblica e i decisori a livello nazionale su quella che è la condizione attuale. Noi proprio la scorsa settimana anche in virtù di questa esperienza perché guardate che al di là di quelle che sono le restituzioni che gli amministratori hanno andare ad incontrare il punto di vista dei giovani, andare ad incontrare il punto di vista degli operatori del sistema bancario, incontrare gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari, incontrare i giornalisti che hanno una grande responsabilità nel raccontare questo fenomeno non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. È una grande occasione, è un bagaglio di conoscenza, di saperi e di esperienze che va di pari passo con i numeri perché se no i numeri sono grandi in parte fanno paura oppure possono anche essere sottovalutati e non letti. Noi abbiamo mandato in un momento importante questo 2024 in cui il progetto parte e anche un momento di confronto e di discussione a livello nazionale. È in corso il dibattito alla Camera, al Senato e alla Camera dei Deputati sul disegno di riordino del gioco e intorno a questo riordino io credo che sia importante che tutti quelli che dovranno decidere abbiano degli elementi e noi come avviso pubblico anche grazie a questa esperienza, a questa collaborazione e ad aver percepito nel percorso con Biper una responsabilità che non è solo sociale in termini educativi ma è anche di strumenti concreti. Qui non c'è un washing di coscienza, c'è l'idea di rinunciare ad avere dei clienti o di rinunciare ad investire anche in termini ereditizi per la banca perché si capisce che quella direzione è una direzione sbagliata. Allora intorno a questo noi abbiamo provato a far riflettere e speriamo che lo facciano e che possano cogliere il nostro contributo su alcune questioni centrali. Noi oggi siamo in presenza di alcuni elementi che penso sia importante ribadire. Primo, la giurisprudenza dice che il gioco fa male alla salute. Stop, non si discute. Oramai c'è un volume di giurisprudenza e non si deve non considerarlo. Anche perché questo fenomeno ha prodotto l'inserimento della prevenzione dell'azione di contrasto e di assistenza all'interno dei LEA. Quindi l'idea che bisogna in qualche modo intervenire perché è un elemento pericoloso è certo. E l'altra cosa che emerge in maniera inequivocabile ed è importante che chi è chiamato a decidere lo sappia è che gli effetti delle limitazioni, delle restrizioni, cioè di non rendere il gioco libero e facilmente accessibile cercando un bilanciamento tra la libertà individuale ed imprese e la tutela dei diritti alla salute. Che sono due cose costituzionalmente riconosciute che vanno bilanciate. Perché purtroppo ci sono fasce di popolazioni fragili e vulnerabili che considerano il tema del gioco come un elemento in cui può cambiare la vita. In questo si ritorna sul tema dei giovani. Questo progetto ci restituisce l'immagine che i giovani considerano il gioco come una parte della propria ordinarietà, come un fenomeno in cui spesso non si deve avere paura ma che può darti l'idea che riesci a cambiare la tua vita. Se io penso che posso cambiare la mia vita, rischio di crescere secondo dei modelli che sono lontani dall'educazione finanziaria, sicuramente, ma sono dei modelli anche pericolosi rispetto alle generazioni che noi stiamo crescendo. Cioè a persone che rischiano di cercare sempre la scorciatoia che poi rischia di tradursi in una tassa occulta sulla miseria in cui cadi perché questo fenomeno può provocare della dipendenza. Allora io credo che la riflessione che è chiamato a fare il Parlamento e che speriamo faccia in maniera responsabile e noi anche grazie a questo percorso abbiamo provato a restituire un contributo è attenzione al ruolo degli enti locali e delle regioni perché le competenze sanitarie, le competenze socioassistenziali fanno sì che il riordino non possa non essere un riordino che tiene conto di questi effetti bisogna fare attenzione a che il sistema degli enti locali e le regioni non cadano loro nella trappola non dell'azzardo ma della possibilità di ottenere una quota parte degli introiti quella è una trappola pericolosa vale lo stesso meccanismo per i ragazzi non possiamo raccontare ai ragazzi una cosa che prendiamo la scorciatoia e noi invece accettare di essere remunerati da una quota parte di questi proventi per poter costruire consenso un comportamento e una relazione dialogica ma rispettosa dei ruoli con un settore economico importante che è rappresentato dai concessionari ma con una centralità in capo al Ministero della Salute e dei soggetti che in qualche modo hanno la responsabilità di prevenire e infine una grandissima attenzione su quello che è il ruolo di questo sistema rispetto alla penetrazione criminale mafiosa lo dice la Commissione Antimafia lo dicono le indagini, le inchieste, le sentenze questa è una nuova frontiera in cui si possono rinvestire i proventi delle attività in lecite immettendo flussi di denaro importante nella gestione di queste attività e nella gestione anche dei sistemi fisici bisogna fare attenzione e considerare che le limitazioni o i controlli hanno anche un senso di prevenzione rispetto a questo rischio allora io credo che l'obiettivo sia quello di provare a rigenerare una cultura di attenzione e di sensibilità su questo fenomeno di fare in modo che meno persone rischino di cadere nella trappola di non cadere noi stessi come amministratori, operatori, cittadini in questa idea che insomma la libertà prevalga su tutto non conoscendone i rischi anche perché oggi nella trappola dell'azzardo ci sono un milione e mezzo di persone di cui solo una piccola parte si rivolge ai servizi ai SERD e ai servizi deputati c'è una cifra occulta che sono le persone che gli amministratori il personale degli uffici il personale del sistema bancario incontra, conosce e vede e cerca in qualche modo di aiutare a uscire da una condizione pericolosissima noi dobbiamo ridurre questo numero sproporzionato di persone che sono cadute nella trappola dell'azzardo e proviamo a farlo a partire innanzitutto dalle giovani generazioni grazie allora io direi spazio alle domande dei colleghi giornalisti poi ci sarà sicuramente la testimonianza e la chiusura di Fabio Bottero sindaco di Trezzano sul Naviglio e coordinatore regionale avviso pubblico però domande anche appunto ovviamente legate al progetto e a tutto quello che volete sapere siamo qui prego se no li faccio io ma è meno divertente credo la cornice che ha detto adesso il presidente di avviso pubblico che è quella in cui stiamo che ovviamente la legge di riordino è un tema su cui anche noi come giornale ci siamo molto concentrati perché la sensazione che si stia andando verso strumenti che non mettono più al centro il tema della salute si pensi ad esempio al discorso dell'osservatorio l'osservatorio sull'azzardo che è composto da molti soggetti la società civile ha sempre visto al centro il ministero della salute se tutto questo poi invece passa in capo al MEF al ministero dell'economia e finanza ovviamente dal punto di vista delle priorità c'è uno sbilancio per cui su questo mi pare importante la sottolineatura che è stata fatta dal presidente di avviso pubblico così come il discorso ovviamente del tema educativo che poi è quello centrale ditemi voi perché se no possiamo già andare con Bottero e poi magari le domande le si fa a parte andiamo con Bottero? andiamo con Bottero andiamo con Bottero vai puntiamo su Bottero forse ti conviene Fabio ti conviene metterti di qui perché ti vedo in streaming usiamo direttamente questo grazie grazie a voi per i vostri interventi sono coordinatore regionale come è stato detto di avviso pubblico è un progetto in cui crediamo e abbiamo avuto anche ci tengo a dirlo già richieste da altre province per poter aderire dove abbiamo dei coordinamenti provinciali di avviso pubblico perché sulla lotta al gioco d'azzardo siamo impegnati in tutto il territorio lombardo come anche soci aderenti ad avviso pubblico ci tengo a ricordare qui anche l'adesione di avviso pubblico alla campagna mettiamoci in gioco che è di livello regionale così come anche nazionale con le associazioni anche qui presenti terzo settore i sindacati e si lavora quotidianamente con anche impegni nelle varie amministrazioni locali che aderiscono anche ad avviso pubblico ultimamente abbiamo lavorato insieme al progetto portato avanti dal comune di Ro dove il titolo è molto significativo non giochiamoci il futuro qui insieme anche sempre ad avviso pubblico naturalmente ma anche a Biper stessa che ringrazio dove è stato siglato anche un patto di comunità contro il gioco d'azzardo quindi quello che avete detto prima rientra un po' in tutto quello che viene fatto quotidianamente nelle amministrazioni locali abbiamo bisogno sicuramente di far emergere anche che ci sono questi come diceva il presidente nostro di avviso pubblico ci sono esempi di continuativi di cultura di diffusione di cultura della responsabilità ma questa rete e questi progetti come anche quello che verrà svolto a Milano l'11 di aprile a cui aderiremo sicuramente anche dalla città metropolitana di Milano perché è fatto a Milano ma lo aderiamo arriviamo anche da tutta la città metropolitana sono fondamentali per la condivisione e cercare anche di creare e chiudo una condivisione nella comunicazione che viene fatta poi alla cittadinanza perché ne parliamo spesso è evidente che anche a livello normativo lo diceva il presidente prima attendiamo con ansia con apprensione le nuove norme è evidente che forse non arrivano tutte le nostre istanze quindi questa comunione di condivisione che viene portata avanti con un progetto come questo potrà servire per far comprendere che è veramente una questione prima di tutto di salute e a molti cittadini che anche quotidianamente al sindaco di turno come a me magari come a Roberto a Anna ogni tanto il cittadino ti dice sì ma a me non mi tocca questo problema invece ti tocca direttamente indirettamente perché naturalmente come è stato detto poi perché giustamente dobbiamo seguire le persone che cadono nella trappola appunto dell'azzardo a tutti i livelli salute ma anche a livello economico poi le seguiamo con le risorse dello Stato le risorse dei comuni e quindi i cittadini sono comunque sempre coinvolti e sono importanti anche per aiutare le persone che invece ci cadono quindi una rete sempre più stretta che vada incontro alla raccolta delle a conoscere le fragilità le solitudini delle persone che poi porta a cadere nella trappola dell'azzardo vi ringrazio direi che ci siamo se poi volete per le domande i relatori sono qui siamo stati molto smart molto veloci direi se non ci sono altri interventi chiuderei qui siamo a disposizione ovviamente buona giornata a tutti e alla prossima grazie ancora grazie